Come ogni martedì in diretta, spazio all'approfondimento, cure e terapie anti-covid, il punto con due esperti. Il dottor Silvestro Volpe, primario di immunoematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, ci parlerà di plasma, iperimmune e donazioni. Il dottor Salvatore Spagnolo, cardiochirurgo dell'Istituto Studi Clinici di Alta Specializzazione di Genova, illustrerà il protocollo per le terapie domiciliari, eparina, cortisone e aspirina, portato avanti con l'ausilio di numerosi medici di base in tutta Italia. Per intervenire in diretta e porre quesiti sarà possibile telefonare allo 0825 31399 oppure commentare la puntata che verrà trasmessa sul canale 90 del Digitale Terrestre in Campania e attraverso le pagine Facebook di Prima TV e Telenostra. Seconda parte della trasmissione, a partire dalle 16, dedicata al tema della violenza sulle donne. Il Covid sembra aver peggiorato condizioni e numeri già drammatici. La testimonianza di chi è riuscito a ricostruirsi una vita e degli operatori che riescono, anche in tempo di pandemia, a portare aiuti concreti.